Benvenuti nel mio canale di cucina Oggi cucineremo due tranci di verdesca in umido con piselli e un buon sughetto di pomodoro Passiamo la cottura Scaldiamo un filo d'olio E rosoliamo una cipolla tagliata grossolanamente Teniamo il fuoco bivace Aggiungiamo un pizzico di pepe in modo che rilascerà il suo profumo E esalterà l'aroma nella cottura e al nostro piatto Aggiungiamo 100 ml di passato di pomodoro e 100 ml di acqua Continuiamo la cottura a cuoco medio Dopodiché aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro Poi aggiungiamo 150 g di piselli E portiamo a cottura Cuociamo per circa 8-10 minuti Aggiungiamo un pizzico di sale ai nostri piselli E poi uniamo i tranci di verdesca Cuociamo i tranci per circa 4-5 minuti al massimo per lato Andiamo a salare i tranci di verdesca E poi impiattiamo Grazie per aver visto il video Iscrivetevi al mio canale di cucina Lasciate un commento se vi è piaciuto la ricetta E mettete un like Io vi aspetto al prossimo video Ciao ciao da Gian